Giovedì mattina in programma una manifestazione con corteo in centro promossa in occasione della giornata della memoria per le vittime innocenti delle mafie. Circa 4.000 persone partiranno da Piazza dell'Esquilino per arrivare nell'area del Circo Massimo dopo aver percorso via Merulana, via Labicana, via Cielio-Vibenna, via di San Gregorio e via De Cerchi. Chiusure a traffico, deviazioni per i bus. È in arrivo una nuova isola pedonale, sarà realizzata nel quartiere di Fonte Meravigliosa, zona nell'area sud della città tra Cecchignola e Vigna Murata. I lavori sono già cominciati e dureranno circa sei mesi. I dettagli del progetto su romamobilita.it